Come saprete, la situazione sul fronte del contrasto al coronavirus in questi giorni, in queste ore, sta evolvendo. Si stanno bagliando nuove misure per la tutela della salute pubblica e per il contenimento del virus. Noi ci colleghiamo allora per degli aggiornamenti con Augusto Cantelmi a Palazzo Chigi. Augusto, a te. Eccoci, eccoci. Buon pomeriggio. Come vedete, tanti giornalisti qui davanti alla sede del governo perché si attendono delle decisioni davvero importanti. Una su tutte ed è anche un po' giallo, se vogliamo, quella sulla chiusura delle scuole a partire da domani fino al 15 marzo. La notizia era alzata subito nelle cronache o straverso le agenzie di stampa che l'avevano data. Poi improvvisamente è uscita il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, che ha detto guarda che ci stiamo ancora lavorando, dobbiamo aspettare ancora il parere del comitato scientifico. Diciamo ha preso tempo. Questo che cosa significa nella bozza che noi abbiamo avuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui ci sono tutti questi provvedimenti che riguardano la salute dei cittadini. Abbiamo letto attentamente che non c'è quella parte che riguarda la scuola. Con molte probabilità potrebbe essere inserita in un secondo momento o con un decreto a parte. Questo in qualche modo lo capiremo nelle prossime ore. In questo momento, subito dopo, il Premier incontrerà le parti sociali ma soprattutto le regioni per fare il punto della situazione. Per quanto riguarda invece le misure che verranno approvate a breve, vediamo alcune ormai si conoscono. Rinvio di tutte le attività e quindi convegni, congressi e poi sospensione delle riunioni e dei meeting e poi ancora rinvio degli eventi nel luogo pubblico e privato. Riguarda anche le partite di calcio, ovviamente se ne è discusso tanto. E anche cinema e teatri, ma non i musei, questo non vi è scritto. Quindi tanti provvedimenti che verranno presi tra poco. Non sappiamo, ripetiamo, quello che riguarda la scuola. Con molte probabilità verrà presa questa decisione. Potrebbe essere lo stesso Presidente del Consiglio ad annunciarla perché con molte probabilità alla fine di tutti i colloqui che avrà in questo lungo pomeriggio potrebbe scendere in sala stampa e dare le notizie, leggere quelli che sono i provvedimenti. Noi abbiamo qui soltanto una bozza. A voi. Grazie Augusto, lo capiremo ovviamente nelle prossime ore. Adesso cambiamo argomento. Sigla. Grazie. 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 Grazie a tutti. Dunque oggi parliamo delle tensioni internazionali e in particolare delle gravissime emergenze legate ai profili proprio poche ore fa in una delle tante traversate della speranza. Un ragazzo è morto un bambino e un ragazzo di 22 anni sarebbe morto durante le operazioni di respingimento messe in atto dalle forze dell'ordine ai confini della Grecia. Mentre giornalisti e operatori, lo raccontano le cronache appunto di queste ore, sono stati picchiati nell'isola di Lesbo. Dunque un'escalation di violenza contro i profughi e non solo, le forze armate di due paesi contro una massa di disperati. Una situazione terribile, paradossale, che ha cause precise che vogliamo indagare e lo facciamo con gli ospiti che sono qui. di cui do il benvenuto a partire dalla collega Maria Cuffaro, ben arrivata, molto noto del TG3, più volte premiata per i suoi servizi, per il suo lavoro nelle zone più ferite e più calde del pianeta. Grazie perché sei qui. E bentornata Antonella Rampino, un'amica di Siamo Noi, collega esperta di temi internazionali, conoscitrice anche del Medio Oriente, Maurizio De Banne, di Medici Senza Frontiere, sta per ripartire per le lesbo. Ricordiamo, lì c'è un presidio pediatrico molto importante. E ben arrivato, bentornato, padre Mussier Zerai, coordinatore europeo dei cattolici Eritroi. Allora, padre Zerai, abbiamo visto le immagini con cui abbiamo aperto questa puntata, no? Non sono neanche le peggiori, quelle che abbiamo mandato in onda. La selezione è stata davvero molto complessa. Io però penso, a questo punto che bisogna dirlo con forza, che tutto questo dimostra che il senso dell'umanità in questo mondo è un po' scemato. Ma non solo il senso dell'umanità, ma c'è un principio capovolto che il diritto dei più poveri e dei più deboli viene considerato un diritto debole, per cui è calpestabile, ignorabile, quello che stiamo assistendo da un po' di tempo, ormai questa erosione dei diritti che mano a mano vengono smantellati, che porta poi a queste conseguenze, che i stati che dovrebbero tutelare i più deboli, invece gli stati usano come arma di ricatto i profughi, e o come il problema su cui scaricare tutta l'attenzione, tutti i problemi delle proprie società e dei propri fallimenti. E questo è il risultato che porta a questo. Mentre parlava padre Mussier riflettevo sul diritto d'asilo. Dov'è finito? Dov'è il diritto d'asilo? Allora oggi, a maggior ragione, più di ogni altro giorno vogliamo coinvolgervi, vogliamo interpellarvi, lo facciamo con il nostro Simone. Vi chiediamo un commento alle immagini che avete appena visto e se volete potete dire la vostra, vi lascio i nostri riferimenti, i nostri contatti partendo dalla mail, siamo noi chiocciola tv2000.it, il nostro numero whatsapp 348 30 70 345, scriveteci un messaggio oppure un breve vocale, altrimenti c'è sempre il nostro numero verde a vostra disposizione 822 88 96 oppure interagite con noi sui nostri social. Grazie Simone. Maria, Maria Cuffaro, siamo alle prese con una nuova crisi umanitaria al confine tra Grecia e Turchia. Era qualcosa di annunciato, una bomba a tempo questa? Beh, era annunciata, padre Mussi Zerai ha parlato di diritti dei più deboli che sono diventati diritti deboli. Ora, in questo scenario, voi avete fatto vedere, forse giustamente, le immagini meno cruente perché ce ne sono di ben peggiori, ci sono guardie costiere greche, quindi europee che quasi speronano barconi di profumi, ci sono soldati, poliziotti greci che sparano a altezza Duomo e ci sono immagini di gente di Mitilini che è Lesbos, che è la capitale di Lesbos che attacca un fotografo tedesco. Ma tornando ai diritti, ora questa situazione non nasce come l'altra con un flusso di profughi che esce dalla Siria e cerca rifugio e arriva in Europa. No, questa nasce dal cinismo di un presidente che è Erdogan, presidente della Turchia e lì diciamo abbiamo calpestato varie accordi e leggi internazionali. Che decide in pratica di servirsi dei profughi che già non è come uno strumento di ricatto. Come pallottole e non gliene frega niente se muoiono. Cioè la BBC nei primi giorni a Edirne, che sarebbe il confine di terra tra la Turchia e la Grecia, raccontavano che erano stati caricati sugli autobus pagati dal governo per poter attraversare, per dire vai adesso in Europa, provaci te. È tutto aperto, la strada è aperta, è una cosa terribile. Da questo c'è anche l'accordo che fu sottoscritto dalla Merkel e da Erdogan. Praticamente la rimozione non funziona né un rapporto di coppia. Figuriamoci nei rapporti internazionali. Noi firmamo un accordo, tienite di te, ti paghiamo, non vogliamo più avere niente a che fare. Ovviamente l'unica scelta che ha, diciamo, come fai a togliere l'arma del ricatto al presidente? Togliendogli qualsiasi potere di ricatto, ma questo l'Europa non lo farà mai. Peraltro si registra anche la morte di un secondo profugo adulto, quindi due adulti e un bambino. Antonella, ma è possibile che un presidente di uno Stato, la Turchia, tenga in scacco l'intera Europa? Sì, perché gli è stato permesso, perché Angela Merkel, come ricordava Maria Cuffaro, che pure era il capo di Stato, il capo di governo che ha aperto all'accoglienza i profughi siriani contro la sua stessa opinione pubblica, contro parte del suo governo, è anche quella che ha sollecitato e impostato per l'Europa un accordo per il quale l'Europa paga un autocrate che è un alleato della Nato, ma in questo momento fa la sua geopolitica con Putin, perché dobbiamo guardare anche lo scenario più ampio, affinché si tenga, con 6 miliardi, mi pare, finora ha avuto, 3 milioni e mezzo di profughi. È una bomba a tempo ed era chiaro che sarebbe esplosa. È un problema politico enorme, è la cosa più allarmante per me, al di là delle immagini che abbiamo visto e di quelle che non abbiamo visto, è che Ursula von der Leyen, la nuova presidente della Commissione europea, è corsa, insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, sulla frontiera greca, dove c'è questa situazione, e il suo statement è stato grazie ai greci che proteggono i confini europei. È una frase allarmante, perché il diritto d'asilo è un diritto costitutivo dell'Unione europea, è previsto e richiamato in tutti i trattati, di più c'è addirittura nel trattato sul funzionamento, del regolamento, del funzionamento dell'Unione europea. La gestione dei confini extra Schengen non è derogata agli Stati, ma è derogata ad organismi dell'Unione europea che vanno attivati con precise procedure. Ursula von der Leyen è il presidente della Commissione europea. Non è un funzionario che non ha letto. Antonella, grazie di questa sottolineatura è stato detto, insomma, questo è la cosa più allarmante. È la cosa più allarmante, le parole sono pietre, dicevamo l'altro giorno qui, è stato detto, voi siete lo scudo, lo scudo d'Europa. Lo scudo, hai ragione. È una parola davvero che pesa. Per la verità, il presidente del Parlamento europeo Sassoli ha anche ricordato i tanti minori, insomma, le politiche mancate. Ma su queste questioni, anche sulle questioni dell'asilo, secondo solo, il Parlamento europeo ha sempre avuto una posizione diversa da quella della Commissione. Ecco, sì, sei fatto benissimo a ricordarcelo. Maurizio De Banne, Medici Senza Frontiere, noi raccontiamo spesso il vostro impegno, opera in tanti territori che sono interessati dalle ondate dei profughi. Che notizie vi danno in queste ore i vostri operatori? Ma la notizia principale è che a Lesbo viviamo una situazione non lontana da quella che vediamo in altri paesi in guerra dove opera Medici Senza Frontiere. E questo succede in Europa. Dicevamo prima che non è una crisi che è scoppiata oggi, ma viene da molto lontano. Ricordo lo scorso autunno, quando con Medici Senza Frontiere ho lavorato sull'isola di Lesbo, una donna afghana morì per lo sviluppo di un incendio nel container dove viveva. A novembre, un neonato di nove mesi, morì per disidratazione, per disidratazione in Europa di fronte al campo di Moria. Ma ce la vuoi ricordare la situazione di Lesbo? Perché insomma noi l'abbiamo raccontata... Qui parliamo esattamente di una donna che è fuggita dalle bombe in Afghanistan e che è morta in un campo in Europa. Questa è lucidamente la situazione che viene a Lesbo. E non è l'unica, diciamo. E non è l'unica, dicevo prima, un neonato di nove mesi morto per disidratazione. Ripeto, sottolino la disidratazione, perché morire per disidratazione in Europa è una vergogna, è una vergogna. Cosa c'è a Lesbo? Quanti sono? Allora, a Lesbo al momento ci sono circa 20.000 persone in un campo, quello di Moria, che è pensato, o meglio, attrezzato per ospitarne non più di 3.000. Quindi 20.000 persone in uno spazio di 3.000 persone. Sono 40% sono bambini, sono minori. La Costituzione, soprattutto famiglie, che vengono da paesi in guerra come l'Afghanistan, come la Siria, bambini che non vanno più a scuola e Medici Senza Frontiere ha una clinica pediatrica fuori dal campo dove ogni giorno facciamo più di 100 visite al giorno e abbiamo chiesto al governo greco da mesi almeno l'evacuazione urgente di circa 200 bambini con patologie potenzialmente mortali. E la risposta? Nessuna. Parliamo di problemi cardiaci, epilessia, diabete, bambini che non potrebbero essere curati nemmeno nell'ospedale pubblico dell'Isola. Ma le autorità greche nemmeno la sicurezza garantiscono a voi che operate lì? In assoluta solitudine? In questo momento no, la clinica pediatrica di Medici Senza Frontiere anche oggi è chiusa per motivi di sicurezza. Io vorrei ricordare che poi è anche cambiato il governo, è cambiata l'aria in Grecia, c'è Chiriekos Mizzotakis, è un governo di destra, montano anche, Maria coinvolgo te, monta anche la violenza da parte degli estremisti di Alba Dorata. Però prima di intervenire, vediamo la situazione a Lesbo con un filmato di Medici Senza Frontiere. Vediamo un po'. Siamo morti comunque. La situazione a Idlib è un enorme disastro. Anche la situazione delle persone è davvero molto brutta. I bambini muoiono per strada per via del freddo e della neve. Quando eravamo ad Idlib, gli aerei volavano sopra la nostra testa. Non sapevamo da dove bombe e missili sarebbero arrivati. Venivamo da Idlib. Abbiamo sofferto troppo. Nessun'altra popolazione al mondo sopporterà tanta sofferenza quanto noi. Dove vivevamo in Siria, c'erano aerei da guerra che volavano. Qui non c'è differenza con Idlib. L'unica differenza sono gli aerei da guerra. Su quest'isola, l'unica differenza è che non abbiamo aerei da guerra sulla testa. Non so come proteggere e prendermi cura della mia famiglia. Ho paura per loro per via della guerra. Non abbiamo modo di offrire loro la vita felice che dovrebbero avere. I bambini non hanno diritti, non hanno nulla. Prendersi cura dei bambini è un grande problema. Noi siamo cresciuti con la nostra famiglia, potendo avere una vita tranquilla. siamo stati costretti a scappare. Non mi interessa di me stesso, io morirei. Sono stato costretto a partire per questi bambini. Sono una mia responsabilità. ringraziamo naturalmente a Medici senza frontiere per questo filmato. Maria, poi condividiamo anche lei, Paglia Zerai, su quello che abbiamo sentito. Fa impressione, è fortissima questa testimonianza, questa manifestazione di dolore, soprattutto alla luce di quell'isola che noi abbiamo raccontato, dove tanta gente generosa si era messa a disposizione dei profumi. cambiata l'aria, non solo politica, ma proprio anche quella umana. Il filmato, quella testimonianza che avete trasmesso, sono le motivazioni, motivazioni drammatiche che spingono le persone a uscire, a cercare, ad abbandonare tutto ciò che conoscevano. e purtroppo a Lesbo, io ho seguito per il TG3 dal 2015 al 2016 e Lesbo mi aveva colpito per l'accoglienza. Per quell'accoglienza. Ed era un'isola in cui tutti erano accorsi a dare l'acqua, le vecchiette di Scala Sicamia, che avete fatto vedere all'inizio delle immagini dove approdano gran parte di questi gommoni. C'erano vecchiette di 80-90 anni che erano sulla spiaggia con i biberon per i bambini. Era una Grecia completamente... Le volevano candidare al Nobel, ti ricordo? Esattamente. Era una Grecia completamente diversa. Ovviamente al governo c'era Tsipras, ma c'era anche un'Europa diversa, perché è chiaro che Lesbos è una piccola isola che non è che vivesse di turismo, vive di raccolta di olive, così un po', come dire, non è un'isola ricca. È un'isola dove, ad esempio, come in tante isole greche, aveva la sua roccaforte il Partito Comunista greco e aveva vinto Tsipras. Il PASOC. No, il Partito Comunista, il KKE, il PASOC è stato spazzato da una tangentopoli greca, ma questa è un'altra storia. Il PASOC ha un'altra storia. E quindi era un'isola aperta, accogliente. Poi, se in un campo, come ci hanno raccontato i medici di Senza Frontiere, in un campo che ne può ospitare 3.000, ne metti 20.000, anche la popolazione... Esiste la rabbia, purtroppo. E poi Pariserai colpisce, no? E Crisi Afghì è comparsa sulle isole. Colpisce Pariserai il dramma di quel papà, no? Che come tutti i papà cercano di difendere i propri figli e si sente nell'impossibilità di farlo. E allora mi viene da pensare ancora una volta che qui o si fa parte di un ristretto club di fortunati o si vive rischiando la morte ogni giorno, vivendo in quelle condizioni così drammatiche. Il diritto si è trasformato in elemosina. Il diritto si è trasformato in privilegio di pochi. Questo, quando si trasforma, e tu che detieni il diritto di accogliere o di dare asilo, lo dai in base al tuo piacimento. Non è più un diritto. È un'elemosina o è un privilegio diventa una lotteria per chi arriva vivo. Ma quello che deve preoccupare è che stiamo perdendo anche il senso dell'umanità perché siamo arrivati negli ultimi tre anni criminalizzando la solidarietà. Quindi criminalizzando la solidarietà. Il risultato è anche la gente che prima ha manifestato tanta solidarietà, lasciata sola, abbandonata in mezzo a tutto quel problema, non è più in grado di rispondere. Maurizio, voi la sentite questa atmosfera profondamente cambiata nei vostri confronti? Tu stai per ripartire per l'Esbo? La sentiamo... Sì, sentiamo questo clima di criminalizzazione che contempla un po' tutti. Ma non soltanto la Grecia, poi in realtà. Chiunque voglia dare una mano, ricordo anch'io, ma anche lo scorso autunno, quando era a Lesbo, si vedevano le persone che sono lì, queste 20.000 persone, l'unica cosa che possono fare è girare per l'isola. Non possono abbandonarla, ma possono girare liberamente. Quindi prendono l'autobus, vanno nel centro di Mitilene e girano per la città. Insomma, quando era lì lo scorso autunno, sembrava un po' di essere come a Londra, perché vedevi i congolesi, i siriani, i rakeni, una città come se poteva essere un'iglotta, multietnica. E diciamo, si cominciava ad avvertire un cambio di clima. È ovvio che un'isola come quella di Lesbo, che paga un po' questo afflusso di persone che arrivano dalla Turchia, anche per il turismo, che ha avuto un calo, non può essere lasciata sola a gestire questo fenomeno. Quindi qui c'è una responsabilità della Grecia, ma allo stesso tempo dell'Europa, che sta mostrando il volto più cinico, spietato rispetto a queste persone, voltando lo sguardo, ed è stata deliberatamente portata ormai a un punto che è veramente grave. L'Europa sotto accusa, sul banco degli imputati, Antonella, ma per incapacità o per menefreghismo? Per autolesionismo, perché non è pensabile che una comunità di 500 mila persone, una delle aree economiche di maggior sviluppo nel mondo, la culla della democrazia e dei diritti, smitragli 20 mila profughi, invece di aprire le frontiere. Qui la parola compassione è di casa, la parola compassione ha anche una cittadinanza politica, perché esistono correnti di pensiero, ma con cinismo dovremmo invece considerare che se l'Europa, invece di erogare 6 miliardi di euro a fondo perduto, dando il coltello in mano a un Erdogan, avesse investito tutte le sue competenze, oltre che il denaro, in una seria politica dell'apertura ai profughi, con dei flussi regolati, avrebbe fatto il suo stesso interesse, perché la demografia non cresce, non c'è forza lavoro, i paesi sviluppati che non sono nelle condizioni in cui ha versato l'Italia con il doppio populismo al governo negli ultimi anni, questo lo fanno di aprire, come la Francia per esempio, la Germania, la Merkel, dei siriani prese tutta la classe dirigente, i laureati. Ripartiremo da qui, ripartiremo da qui, da quello che non si è fatto, da quello che si potrebbe ancora fare, se si volesse, e ci domanderemo davvero se questa è nostra Europa, se noi stiamo perdendo pezzi di umanità, subito dopo la pubblicità. Ficchiati e rispinti, e questo è quello che stanno vivendo in queste ore, migliaia di profughi ammassati al confine tra Turchia e Grecia. Ecco, stavamo parlando con Antonio Arampino, padre Zerai, delle responsabilità dell'Europa, di quello che si poteva fare e che non si è fatto, le diceva una gestione diversa dei flussi, io le aggiungo anche un'altra interessante riflessione che faceva oggi Luigi Manconi sul Repubblico, i corridoi monetari, i corridoi monetari hanno fin qui funzionato, e lui diceva se questi 6 miliardi li avessimo indirizzati magari in quella direzione, e faceva un calcolo molto pratico, diceva per ogni profugo 10 mila euro, il che significa che alla luce di questi 6 miliardi avremmo fatto entrare 600 mila profughi, è una via praticabile? Sì, sarebbe praticabile se c'è la volontà politica per farlo, solo che il problema è se l'Europa è divisa in se stessa, al suo interno non c'è la vera solidarietà tra gli stati per condividere la responsabilità e il peso di, e non ha fatto neanche una politica di prevenzione, prevenzione al conflitto non è stato fatto, scoppiato il conflitto, prevenzione anche che queste persone non siano abbandonate in quelle condizioni. Non ce la dimentichiamo con la guerra lì che è la causa. E poi sono finiti per essere ricattabili loro stessi, finendo nelle mani prima di Gheddafi, poi di Erdogan, ma la stessa anche della situazione in Libia, non è che è diversa da quella che... No. Allora, i nostri telespettatori credo che stiano scrivendo parecchio. Assolutamente, si fanno sentire, vi leggo qualcosa, partiamo da Anna, la situazione è decisamente degenerata, la Grecia, l'Esboa in particolare è in un luogo accogliente, le signore anziane assistevano i bimbi rifugiati, ora ci siamo incattiviti, ma dov'è l'Europa? Noemi, il video mi ha scioccata, siamo davanti a un gioco politico bello e buono che fa leva sulla disperazione della povera gente. Tiziana, Medici Senza Frontiere in questi luoghi fa veramente la differenza, è possibile che dei volontari debbano dare lezioni di umanità ai grandi politici del pianeta? Rachele, non si accoglie perché ormai al posto del cuore ci sono le piete, che tristezza. Chiara, è una vergogna, ma noi ci sentiamo impotenti. Cosa possiamo fare? E chiudiamo con Francesca, è un vero dramma e purtroppo i nostri governanti non sono meglio di Erdogan. Loro hanno maltrattato e usato i migranti per fini esclusivamente politici. Allora io raccolgo, Maurizio, una delle provocazioni delle tre spettatrici che ci hanno scritto. Insomma, se non ci fossero i volontari, quel campo che sarebbe? Ma diciamo che se non ci fossero i volontari, i cento bambini che vengono ogni giorno a fare le visite pediatriche nella nostra clinica non saprebbero dove andare. Ma non c'è soltanto Medici Senza Frontiere, ci sono anche altre organizzazioni, anche greche che si sono mobilitate, tantissimi volontari sono sull'isola a dare una mano a quelli che sono presenti soprattutto nel nord dell'isola quando accolgono le persone che appunto sbarcano. Ma lo stesso discorso lo possiamo fare per tantissimi altri paesi dove opera Medici Senza Frontiere. A questo punto è un cartello significativo. Perché anche noi possiamo fare la nostra parte. Nati in emergenza è il nome del progetto. 4, 5, 5, 9, 6 per aiutare Medici Senza Frontiere e quindi anche aiutare i bambini di Lesbo. Ricordiamolo. Insomma, si può donare dai due, poi anche 5-10 euro. Migliaia di madri, migliaia di bambini si possono salvare chiamando quel numero. Maria, fino a che punto noi per avere confini chiusi cederemo al ricatto di Erdogan? Purtroppo abbiamo dimostrato, cioè l'Europa ha dimostrato, come dire, non ha una visione politica. Perché l'accoglienza conviene, converrebbe a quei nazionalisti, a quei sovranisti. Perché è chiaro che se tu crei delle situazioni di emergenza, che le stai creando perché tu in un campo da 3 mila ne metti 20 mila, cosa vuoi che succeda dopo un anno, due anni, anzi, diciamo, dopo quattro anni. 40% bambini. Ma come anche da noi in Italia abbiamo questi enormi centri di detenzione, di identificazione. Ma come vuoi che ci sentono le persone lì? E che poi costano. Ma quei stessi soldi, se uno li utilizzasse, per l'accoglienza, ci mancano a noi infermieri, ci mancano una serie di figure professionali e potremmo investire, potremmo essere tutti un po' più felici e sereni, e invece no. Non ci riusciamo, non ci arriviamo. E l'amico Putin? Perché la paura serve a tenere il potere, Putin non è che sia fuori, come dire, da questa congrega. Questo signore qui, Putin, il suo ruolo? Putin ha un ruolo più crescente in tutta l'area mediorientale, anche qui l'abbiamo sempre detto, un ruolo che gli è stato lasciato dalla presidenza Trump ampiamente, perché Trump è un isolazionista, anche il ritiro dall'Afghanistan non è la pace in Afghanistan, è il ritiro degli americani dall'Afghanistan. Bisogna dire però anche che Putin fa ridere, ma rappresenta talvolta un punto di equilibrio, anche se ha fatto della Siria per un lungo periodo il suo poligono di tiro. Putin adesso si sta anche, come dire, si volge in un ruolo di possibile mediatore, cioè chi ha dei conflitti va al Cremlino a cercare di risolverli, anche perché ha uno dei migliori ministri degli esteri presenti sulla scena internazionale da sempre, Lavrov. Ecco, insomma, sono tutte cose preoccupanti nella misura in cui... Questo tutto si connette in questo quadro. Sì, nella misura in cui la Russia non è una democrazia, come sappiamo. Io mi appello, adesso mi rivolgo a te, avrei potuto rivolgere la stessa domanda anche a lei, voi insomma siete signore delle informazioni, della comunicazione, ma perché, perché i media si occupano così poco, e soprattutto a ondate di storie come quelle che raccontiamo oggi? Ora siamo di fronte a dei numeri, è un'emergenza, insomma, che forse giustifica tutto questo, ma altrimenti c'è silenzio. Sono poche le testate che seguono con regolarità la questione. Perché le testate, diciamo, i quotidiani, come per esempio i telegiornali, diciamo, si soffermano sulle notizie dall'estero pochissimo. Questo tradizionalmente l'Italia ha sempre dato pochissimo spazio all'estero, se non in caso di emergenze. Quindi notizie che non potevano essere, che bisognava darle. Quindi i profughi, i rifugiati, solo quando scoppia un caso. Esatto, però diciamo, l'italiano che cosa sa della Siria? Vabbè, ogni tanto si spara, punto. I profughi si ogni tanto arrivano, punto. Cioè non c'è, e noi nel nostro piccolissimo di tardanotte ci proviamo di dare un racconto continuativo che il mondo esiste. Perché poi alla fine tutto questo, e noi viviamo in un unico mondo ed è pure tondo. Ce lo sta ricordando l'emergenza coronavirus che è il mondo. No, dobbiamo iniziare a conoscerci, perché ad esempio, io ci tengo anche molto che ogni tanto noi tentiamo di raccontare qual è questo mondo, perché altrimenti l'italiano pensa che l'Africa, tutti i profughi. Per esempio, in Nigeria c'è la più grande industria cinematografica di sempre. Nessuno. Allora, siamo in conclusione, Padre Zerai. Come dire, voltare lo sguardo dall'altra parte è grave per tutti. Io però le chiedo per noi cristiani se è doppiamente grave. Sì, perché quello che ci dice San Giacomo nella sua lettera è a ciascuno di noi. Tu sai il bene che devi fare, che puoi fare, che hai la possibilità di farlo e non lo fai, tu sei nel peccato. Quindi ciascuno di noi siamo chiamati a rispondere quando c'è questo bisogno. e l'amore del prossimo è lì, nel suo bisogno, nel momento in cui queste persone disperate, tra l'altro in mezzo ai due fuochi, chi spinge, chi respinge, non prendere la mano. È peccato. Noi vi ringraziamo, vi ringraziamo per averci portato lontano con le vostre questioni a guardare oltre il nostro naso. Torniamo puntuali. Domani, domani, come sempre, il 15 e 20, domani. Aspettiamo.